Si è svolto dal 16 al 21 luglio 2012 all'hotel Parco delle Rose di San Giovanni Rotondo in provincia di Foggia la competizione per l'attribuzione del titolo mondiale di dame inglese specialità gape a mossa libera. Il match ha visto l'azzurro Sergio Scarpetta sfidare a Ron Suki King delle Barbados detentore del titolo da oltre 20 anni. La grande sfida ha visto un eccezionale equilibrio fra i due damisti. L'evento è stato organizzato dall'associazione sportiva Dama Foggia con la collaborazione ed il supporto della federazione italiana dame ed il patrocinio della regione Puglia della provincia di Foggia del comune di San Giovanni Rotondo e del comitato provinciale del Cone di Foggia. La sfida, articolata in quattro partite al giorno, è stata diretta dall'arbitro Jan Kovic, coadiuvato dal giovane arbitro Alessio Mecca di Latina. I primi otto turni sono stati caratterizzati da grande equilibrio. Dopo tre giornate di gioco e dodici partite disputate, il campione in carica Ron King ha vinto una partita e si è portato in vantaggio. Il quarto giorno è iniziato col botto, con la vittoria di Sergio Scarpetta che ha riagganciato il giocatore caraibico. Poi due pari, ma nell'ultima partita del giorno Ron King ha vinto e si è riportato avanti. Il quinto giorno è stato eccezionale per Sergio Scarpetta. Spesso in vantaggio ha vinto uno dei quattro incontri. Raggiunto il damista delle Barbados, ma forse deve mangiarsi le mani per qualche finale, dove l'esperto Ron King è riuscito a trovare la par. Al giro di Boa, dopo dodici dei ventiquattri incontri previsti già disputati, sembrava davvero dura riuscire a rimontare Ron King in questa specialità a mossa libera. Difficile ma non impossibile. Ed infatti il damista azzurro di Cerignola ha aperto la terza giornata esattamente il tredicesimo incontro, con una vittoria che ha riportato il match in pareggio. Le ultime quattro partite si sono concluse in parità, quindi il conteggio finale è stato di due vittorie per Ron King, due vittorie per Sergio Scarpetta e quindi dopo 24 intense partite il risultato conclusivo è stato di parità. In questa situazione il regolamento della VCDF, World Kekker Drug Federation, sezione della FMJD World Drug Federation, prevede che il titolo resti al detentore Ron Suki King. Questo non toglie nulla alla grande prestazione dell'ingegnere e docente di 39 anni proveniente da Cerignola in provincia di Foggia. Il damista pugliese Sergio Scarpetta aveva conquistato il diritto a sfidare Ron King vincendo il torneo di qualificazione mondiale svoltosi a Sanremo dal 17 al 22 ottobre dello scorso anno. Il risultato lascia un po' di amarezza nei cultori di questa disciplina sportiva della mente, ma emerge una certezza per il damismo italiano. Dopo Michele Borghetti nel 2011, ora Sergio Scarpetta. La strada è aperta ed è solamente una questione di tempo. Non bisognerà attendere ancora molto per vedere degli azzurri, campioni del mondo. La prossima opportunità è il Champion Match The World Game Donne, tra la campionese in carica Amangul Berdieva del Turkmenistan e la sfidante azzurra Erika Rosso che avrà luogo dal 2 al 9 dicembre 2012 a San Marseille in provincia di Aosta. L'arbitro dell'incontro sarà il dottor John Redd. Grazie a tutti.